Benvenuto su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie ti invitiamo a iscriverti al canale. Per noi il tuo contributo è importante. Sul suo profilo Instagram, Clerici ha condiviso una foto che la ritrae distesa su un letto dell'Istituto Romano. «Come sempre voglio essere sincera con voi e raccontarvi cosa mi è successo», ha scritto, aggiungendo che desidera sensibilizzare tutti sull'importanza della prevenzione. «Giovedì scorso sono arrivata a Roma con l'intenzione di stare vicina a un'amica e di partecipare al concerto di Gigi D'Alessio a Napoli. Il mio ginecologo mi ha ricordato la necessità di controllare una cisti ovarica. Da quel momento è iniziato uno tsunami», ha spiegato Clerici. «Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie», ha descritto Antonella, rivelando di essere stata sottoposta a una ovariectomia. «Tutto è andato bene», ha rassicurato. «Ringrazio nell'ordine degli accadimenti il mio bravissimo diagnosta ginecologo Antonio Tafuri, la mitica Adriana Bonifacino che è stata sempre al mio fianco con dolcezza, fermezza e competenza e affetto. Ultimo ma determinante il prof Enrico Vizza straordinario professionista, dotato di un'empatia contagiosa. La sua frase prima di entrare in sala operatoria, «Stia tranquilla, al resto ci penso io, non la dimenticherò», ha espresso la sua gratitudine Clerici. Grazie all'equipe del prof Vizza e a tutte le infermiere e infermieri. Adesso un po' di convalescenza. A presto», ha concluso Antonella. Sebbene non abbia mai menzionato esplicitamente la parola tumore, sembra che la cisti ovarica, al controllo, sia risultata compromessa, rendendo necessario un intervento tempestivo. Lascia un messaggio di sostegno ad Antonella. Ciao!